Dobbiamo dire intanto che è una bella idea, perché è ispirata al mondo dei bambini e dell'adolescenza. Vacciniamoli tutti 100% significa dare quella protezione ai bambini in età della prima infanzia, quella possibilità di creare una barriera anticorpale, e quindi essere protetti nei confronti di numerose malattie infettive. La vaccinazione chiaramente ha dimostrato che il tasso di mortalità infantile mondiale è sicuramente in decisivo decremento. E voi state avviando una raccolta fondi proprio da destinare all'Unicef? Ovviamente sì, e sarà questa un'occasione organizzata dalla referente locale, la dottoressa Giussi Ferrera, su input del professore Pirrello, che è il presidente provinciale dell'Unicef, proprio per far sì che anche a livello internazionale possa esserci dei fondi che bisogna investire sulle vaccinazioni per quanto riguarda soprattutto il terzo mondo. Non è ormai una novità che dal terzo mondo poi alcune patologie che ormai ritenevamo debellate, come la polio, ad esempio in Nigeria c'è stato un caso di polio, possono poi trasferirsi nel mondo occidentale. Quindi intervenire su di loro non significa sprecare soldi, anzi significa intervenire su di loro ma per difendere anche i nostri bambini. A tal proposito, devo complimentarmi anche con il governo attuale, che ha finalmente adottato il piano d'azione, che è dal 2004, che non avevamo adottato su input dell'Unicef, il piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza e il fondo per la povertà sociale ed educativa, che è tra l'altro finanziato con dei proventi, dei guadagni delle banche, il che significa fare un'opera meritoria anche per quanto riguarda la società italiana. Ricordiamo l'appuntamento domenica prossima alla Chiesa Sant'Agostino. Sì, domenica 20 novembre, dopo la celebrazione della Messa, che sarà alle ore 18, alle 19 e 15 ci sarà il concerto, un concerto corale costituito da genitori e bambini e diretto dal professore Falci.